Allora, Presidente, c'è stata questa riunione a Palazzo Ghilini, presente il capo della protezione civile. Qual è il punto che può fare della situazione? Devo dire per intanto ringraziarlo perché ha mantenuto le promesse in questo momento, per noi era molto importante perché noi sindaci e come Presidente della provincia siamo parecchio preoccupati sull'andamento dei finanziamenti. È stato fatto un punto importante in cui ha spiegato come verranno elargiti questi fondi e c'è anche tranquillizzato che se questi non bastassero come prima emergenza c'è la sua disponibilità del Consiglio Ministro ad integrare questa somma. Quindi questa mi sembra una notizia abbastanza positiva, nonostante sia una provvisione di nuove piogge. Quindi vediamo un attimino di sfruttare al meglio questi fondi. Adesso grazie alla Regione, che avremo il Commissario Cirio con la sua struttura, faranno un po' da bypass, noi come provincia diamo disponibilità a lavorare insieme a loro per risolvere i tanti problemi che abbiamo sul territorio. Quali sono le priorità? Perché sappiamo che questi 17 milioni di euro non basteranno a coprire tutte le emergenze che ci sono, ma quali saranno le priorità, se già lei lo sa? Le priorità sono sicuramente di stare accogliendo la Regione, sono tutti i soldi delle ordinanze che i sindaci hanno già fatto per mettere in sicurezza il territorio e quelle che ha fatto anche la provincia. Queste sicuramente servono solo ed esclusivamente per mettere a pagare tutte le opere che sono state fatte per mettere in sicurezza il territorio. Ce ne avranno bisogno di molti altri, ma questa è una fase non di somma urgenza, ma di urgenza in cui dovranno essere sistemate le opere in una maniera più consolidata.